Siamo qui oggi per presentarvi questa bellissima Peugeot 5008 1.5 diesel, 130 CV, cambio automatico allestimento GT. La vettura è un chilometro zero, immatricolata a luglio del 2023. La proponiamo in questo fantastico colore nero perla con finiture in chromatose. Nella parte anteriore troviamo questa fantastica griglia che è una panelleria a full LED. Presenti inoltre sensori di posteggio anteriori. Nella parte laterale spicca su dall'occhio il logo GT, questi fantastici cerchi diamantati da 18 pollici, rifiniture cromate come le barre al tetto, vetri oscurati. Nella parte posteriore della vettura ritroviamo i sensori di posteggio con la redolativa retrocamera, un bagagliaio di ingenti dimensioni con la possibilità anche di poter estrarre due posti aggiuntivi. Nella parte posteriore della vettura troviamo alzacristalli elettrici, tendine parasole ed inoltre tre sedili sdoppiati con i rinativi agganci Isovix. Nella parte anteriore della vettura, lato guidatore, troviamo la gestione elettronica degli alzacristalli sia anteriori che posteriori e dei dispecchietti retrovisori. Presenti anche all'anteriore questi fantastici sedili sportivi in pelle misto tessuto con cuciture a contrasto di colore più chiaro. Salendo a bordo spicca subito all'occhio questo bellissimo volante in pelle traforata con il logo GT nella parte inferiore che risulta essere tagliata, le quali donano un look molto sportivo alla vettura. Nella parte centrale troviamo la console, la gestione tramite pulsantiera sia della console centrale che dell'aria condizionata, cambio automatico, drive mode, tasto per l'accensione e il freno a mano elettronico.